Ok, let's go! Per poter arrivare fino a dove siamo arrivati fin qua In più ho anche aggiunto l'Optifine perché così è tutto più figo E sì, siamo sempre in Minecraft 1.8 per chi me lo chiedesse Quindi va bene Direi di cominciare subito anzi qui in quality Direi di fare tutto fast perché così andiamo più veloce Perché voi non avete idea di quanto sia la gosa la 1.8 Seriamente è troppo la gosa Togliamo tutto e adesso dovrebbe andare molto meglio Molto bene, allora, questo oggi ho deciso di fare il parkour Perché mi sento in vena di masochismo Quindi let's go to the parkour, motherfuckers Boom Eccoci qua sul parkour Questi sono bloccati e lì sotto c'è lava Quindi presumo di non doverci andare così molto a caso Ma presumo di dover andare di qua Questo è training Poi cosa c'è dall'altra parte? Fa vedere Se scolleggere advanced No, grazie Basic Già più interessante E intermediate Ok Andiamo a vedere il training Boom Welcome to the parkour branch Try jumping the first few blocks Additional levels will be unlocked as your fans Good luck Prova a fare questi primi blocchi Che complicato No, ce l'ho fatta, grazie È stato molto difficile Queste cosa sono? Ah, così sono i checkpoint Non molto male Con un two block gap Può essere Ah, ok, sì Insomma, questo è da due Tiè Forse non bisogna continuare a sprintare Però sì Ma dai Faccio schifo Ed è un po' che non gioco a parkour Non so se si nota Dovrei allenarmi di più con la geometry dash Vabbè Ok, adesso ci sono i tre block gaps Questi sono quelli che devo continuare a sprintare Eh, ecco, esatto Questa è la diversity duro Questo è un four block gaps Ok, easy Questo è possibile saltare fuori da Cioè, devo saltare all'ultimo Tipo Qua Vabbè Fai, fai Ammazzi È un casino Come ho fatto? Beh, no, non così Non così difficile Ah, adesso ci sono le trapdoors Non ho neanche tirato le leve Va bene Ci sono le trapdoors Let's go to the trapdoors Qui c'è un'altra Ah, no, devo farlo così Poi così 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 Ah, me la sono richiusa sotto i piedi Sono stupidissimo Let's go Like so Like so Comunque credo che metterò anche una musichetta sotto Perché nel parkour ci sta Non troppo alta Perché se no mi copre Oh no, le fence Oh no, le fence Fuck the fences Fuck the fences Non so se l'ho già detto che non mi piacciono le fence Ma Credo che l'abbiate capito così Molto a caso Snack Oh, ce l'ho Ah, ho capito Ma devo shiftarmi mentre salto E ditelo, so Unito, no? Dovrei ricordarmelo queste cose Dalla wall of fury Che però non mi ricordo Perché sono stupido Allora, forse non devo Sprintare Molto bene Ladders Oddio Non so se lo faccio dire Allora, i most frustrating jumps Oh no, le scale Ok Allora, adesso così Oh no, ce l'avevo quasi fatta Sì Ok Così E dopo di che Così No Questo sarebbe il training No, ditelo perché L'advanced Me lo succhio Devo solo premere lo spazio Non anche la freccia in su Ecco appunto Vedete come ho appena fatto Vedete? 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 Probabilmente farò anche dei tagli Ogni tanto Perché sennò diventa noioso La cosa Yeah Yeah Ho come idea che questa sarà una branch Che si dividerà in due parti Così Ma com'è la sensazione? Oh, ce l'ho fatta Taci Fuck yeah Ok, questo lo evito Vapro in mente Perché Sì Mi è venuto leggermente una merda Perché l'ho fatto lunghissimo Cosa devo fare qui? Cioè Devo schiacciare il bottone Mentre salto? Sì Eh sì Molto così Come si fa? È impossibile Oh Non era impossibile Lower stages are not accessible Possiamo andare a fare le lower stages Presumo che siano le cose basic Ok Siamo arrivati ai basic stages Credo di aver editato un po' la cosa Perché ci ho messo tantissimo Ma sì Antì Avrò sicuramente Editato un po' la cosa Allora Questi non sembrano così difficili Anche se sto avendo dei lag Quando sta andando? 30 fps No, non ho la cosa in Ames 59 sono molto meglio Perché se no Per il parkour Andiamo a finire male Allora Il lag non mi piace come cosa Allora andiamo di qua Andiamo di qua Andiamo su Andiamo qua Andiamo qua Quel blocco lì sembra molto lontano Ma è anche perché c'è il fov alto Perché non mi trovo A giocare col fov basso Scusatemi E hop Hop È stata una cosa molto difficile Questo è un blocco fatto a caso Un checkpoint Credo che sia fatto a caso No Ah ma ci fa Oh Questo si potrebbe saltare così Salto direttamente lì no eh Allora saltiamo così Poi così Così E così Saltiamo qua La 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 Andiamo di qua Questi sono tutti saltini da uno Molto facili Andiamo qua Andiamo qua Andiamo qua Andiamo qua Andiamo qua Checkpoint E devo prendere Il pulsante al volo One attempt bitches That's how we fucking Parkour Era più facile del basic questo Cioè era più facile del tutorial No forse no però Vabbè Facciamo finta Da qua si vede meglio Cioè è una torre questa cosa È una specie di fabbrica Ho paura Mi fa paura quella cosa Mette soggezione Comunque Torniamo al hub E andiamo Negli intermediati Che se non erro Erano questi vero Sì E allora Intermediamoci Quindi Bonci Bonci Questo sembra molto Alla geometria di Dash Parkour Map Motherfucker Uh Shiftato all'ultimo E Vai così Vai così E vai così Perché ce la fa Oh Fuck yeah Qui abbiamo due strade Sembra Forse solo una Quella giusta Ma dubito Infatti Ce ne erano due Solo per far confusione E lo sto facendo E lo sto facendo In un attempt Così Vai Cioè Super easy Finito Mi mette paura E fu così E fu così Ah perché ci sono Queste piattaforme Qui Che vanno su I don't know But andiamo a fare gli Advanced Motherfuckers E Sì Sono andato in ordine Stranamente Non me lo sarei mai aspettato Niench'io Da me Però Sì Ops Sì Era da fare Là un attempt Come prima Con le intermediate Mi sono venuti molto bene Per dire la verità Io presumo che Devo saltare di là Adesso Tipo così Poi così No 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 Allora Andiamo così Andiamo così Andiamo così Andiamo così Presumo di dover saltare Dall'altra Poi dall'altra Ma qua si può fare Adesso Credo di dover fare così Poi così Poi così Così Questo si può saltare anche Da qua Così Anche questo È fattibile anche da così Dopo dobbiamo saltare su quello Che è tipo iper lontano Quindi Bungia Non ci sono Checkpoint Int Non ci sono Checkpoint Sì Che bello Quindi Sì Adesso siamo tornati E siamo sbagliati Again Sempre in quel punto lì Comunque sbaglio Quindi sì Anche qui Credo che verrà editata la cosa Anche non so neanche se Le sentirete queste frasi Probabilmente Perché Editing magics Motherfuckers Motherfuckers Sì Questo blocco mi fotte sempre Quindi devo stare attento Perché è già due o tre volte Che lo sbaglio Ok Questa volta l'ho fatto giusto Molto bene Saltiamo Saltiamo Qua Ok Perché non c'è un checkpoint Perché Sbè spero che ci sia C'è che le piattaforme Ci riportino indietro Da un'altra parte Perché se no Veramente Siamo messi male Devo fare molta attenzione Qui perché se cado E non c'è il checkpoint E potrei arrabbiarmi Moltissimo Ok È che Non si riesce neanche a capire Molto bene Quale sia la distanza Da questi lock Ma L'importante è Non ci credo No Sto per fare il causo Dottore della mappa Giuro perché Sarà dieci volte Che lo rifaccio Su parkour E non c'è un checkpoint Perché Non ha senso La cosa Spero che prima Il bottone ci sia E non c'è un checkpoint Perché se non lo prendo Al primo colpo Mi arrabbio Mi arrabbio tanto No Ok E Così Ok Dimmi che questo è un checkpoint Perché se no Ok Grazie E Due Oh The first attempt Bottom press Motherfucker Se farlo così È molto più comodo Questo parkour Confermo Per chi voi Non avete visto Metà delle volte Credo Perché non so ancora Come me lo gestirò Comunque Non mi ha detto nulla Su tipo Higher stages Are now accessible Lo cazzate varie Ma presumo che io possa Salire In qualche modo I don't capisco I don't capisco Please help me Devo buttarmi E Allora Perché non stava funzionando Non capisco Aspettate un attimo Che cerco di capire Cosa devo fare Io non capisco Cosa Cosa Io abbia sbagliato Perché Gli ho fatti tutti No Fa vedere il basic È stato finito Sì Ci sono le barre Qui Andiamo fino in fondo Potremmo vedere se Dobbiamo rischiacciare il bottone Per esempio Perché Don't know what you What's your problem Bitches Seriamente Qual è il problema Di questa mappa Andiamo No Il bottone Non è da rischiacciare Quindi Possiamo tornare indietro Della maniera Fast E Poi Per esempio Andiamo qui Vediamo se il bottone È stato schiacciato Quindi Brum Brum Ma anche qui Siamo a posto Quindi non so Quale sia il problema E nel Hard Nel Advanced Quello che è Stessa cosa Giusto Io vedo qua Le cose Le barre Infatti Sì Il bottone È stato Promuto Non so Cosa sia il tuo problema Devo fare così Di nuovo Così Cosa sta succedendo Non lo so Se tipo Provassi A mettermi in creative E a salire Perché Io Ho fatto tutto Non so Qualche comando Si è probabilmente Rotto Aspettate Un'altra idea Sarò un po' più lunga Per me Ma proverò a farla Io proverò a Cancellare questo salvataggio E a fare un altro salvataggio Della diversa di due Riprendere tutte Le lane E a rifare Tutti i parkour Fino a quando Non ho completato tutto Questa cosa potrà Prendermi molto tempo Quindi sì Ci vediamo In un'oretta Fuck yeah E dopo Tanto Tanto Tempo Siamo di nuovo qui Vediamo se riesco Questa volta Non failare Soprattutto se Questa volta Il fottuto bottone Funziona Perché sennò Io non so più Cosa inventarmi Non ci credo Dai Che palle Allora Siccome non voglio più Rifarlo una sola volta Questo parkour Adesso lo farò Lentissimamente Shiftandomi A ogni salto E vaffanculo Perché sennò qua Non finiamo più Ok Ok Ragazzi è da un'ora e mezza Che Sono su questa Cazzo di mappa Parentesi mia L'arena è un bordello Da rifare Perché l'ho fatta Non potevo farla per ultima Così anche se avessi avuto Da rifarla Non avrei più dovuto Rifarla Ok Ultimi due salti Ultimo salto Oh Bitch please No No Si E anche adesso Non mi ha detto nulla Sul tipo Hiker sages Are now accessible Bitches And why didn't you Tell me Bitch Please Don't fuck me up E siamo nella stessa Rizzazione di prima Io presumo che qui Si dovessero creare Alcune Piattaforme Che tra il resto Si sono create Tutti Sembrava perché ci dovrebbero essere Tutte quelle di questi Vari colori No E che noi Possiamo salire Da qualche parte Che se non capisco Come noi Dovremmo salire Su quella cosa È un mistero Per me Seriamente Ah da qui Ma dai Mi sono rifatto Tutta la Ma mi sono rifatto Tutta la mappa Per niente Ma dai Ma io sclero Vaffanculo Mi sono rifatto Ah c'era un parkour Anche nel salire Ah Perché Perché Kumani Perché Sei così bastardo Ok Siamo qui Cos'è questo Jump boost Proviamoci Facciamo i jump boost Parkour Oh Gesù Ah ok Non si Non bisognava risalire Cos'è questa cosa Oh Ah sono i parkour Vabbè Giustamente jump boost Back to top Back to top Dove devo andare adesso Lì Allora Saltiamo qua Mi piacciono però Questo genere di parkour Saltiamo qua Poi saltiamo qua Poi qua Poi qua No Ma se devo faccio Back to top Ah ok Mi riporto qui in cima Afferrato Allora Jump boost Sentiamoci e Vush Vush Alla matrix No Non alla matrix C'è un po' Alla matrix Ma non tanto Alla matrix Cos'è Jump boost Resistance Ok Vush E adesso E Alla qua Dobbiamo saltare su Ah ok Capisco E Qui Cos'è Un altro parkour Da jump boost No Non ce l'abbiamo più Il jump boost Quindi presumo di no Credo che sia solo Buttiamoci giù Adesso ho di nuovo Il jump boost Perché C'è Devo Devo buttarmi giù E risalire Su serio Ero in cima Prima Perché Perché mi fai risalire E poi scopri che In realtà Non bisognava risalire E che è un Un casino Non ci se la fa E Uff Ok Ho capito come si fa Senza neanche guardare in su Che provo Guardatelo Bottone Yes Bitches E il brutto è che Ti fa vedere tutti i puzzle E poi tu devi tornare Sopra È una bastardata Forte Molto forte Direi Ok no Tipo non si passa Credo che bisogna fare così No 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 Ecco esatto Allora Spostiamoci di uno Per esempio Eh che le griglie Sono tutte uguali Non potrebbero essere sfalsate Vediamo se mi Se riesco a entrare Nella prima Almeno Ok Poi entriamo Nella seconda Quindi Cerchiamo di Mirare a quel B Seriamente Forse è più comodo Se Faccio Lungo i bordi Forse Vero Vero che è più comodo Se faccio Lungo i bordi Non contradirmi Uffi Sto jump booster Basta Basta Ok Basta griglie Seriamente Ok Sono anche caduto Due volte Che palle Però Odio Odio Questa cosa delle griglie La sto odiando Mi sta facendo venire male Agli occhi Ok Questa è l'ultima Sembrabbe l'ultima Primo tentativo Bottone Bottone Sì Vai così Adesso Ok Si è aperto questo buco qui Vediamo cos'è il prossimo Cosa Siamo pazzi Wush No Wush È a tempo No Perché Potrebbero anche esserlo Ok Credo di non andare su questo Ma su questo Prima Quindi l'ipotesi è corretta Poi su que E E No Oh Poi tipo su Quello Quindi Uh Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Poi su quello No No Dai Perché Ok Adesso Vediamo Qui Non ci arrivo Mi sa che devo alzarmi Di un blocco Ancora prima Ok E adesso dovrei arrivarci Sì 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 Perché lì c'è Ah forse da dove Mi sono lanciato prima Wush Il bottons È qui Ok forse Ero troppo lontano Premuto Premuto Basta dai Vero Cos'è questo blocco Qui Mi spaventa Quanto ho Già un boost 800 adesso Quanto mi fa saltare Ho capito Ho capito che hanno aggiunto Le pozioni In 1.8 Ma Voglio dire Mi sembra un po' esagerata La cosa Come ha messo È esattamente Ok Ok Che questo è esattamente Bottone Ok Quasi Bottone 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 Ok Presumo che sia finita Il jump boost Esattamente Oddio Non volevo La cosa bella è che Credo che ti rimanga Il jump boost Quindi Wush Lol Adesso c'è quello Tipo 100.000 Che mi fa fare tutto subito Wush Wush Bonci Bonci Return to the topping Ok Dai Non voglio Spaccarmi di jump boost Per sempre C'è un modo Per toglierselo Back to top Ok Me lo toglie Molto bene Allora andiamo di qua E adesso si accretta quella piattaforma Credo Non lo so Non l'ho visto Questa cos'è Timed No grazie Il tempo No grazie Non siamo amici Il tempo Facciamo la speed Speedy speedy Per 15 secondi To reach the end If I do The speed Okay Ah ok Ho capito Ho capito come funzionano Allora abbiamo 15 secondi Per completare Questo Tracciato Senza morire C'è Oddio Senza morire Poi Nella lava si può anche andarci Se riusciamo a non morire Quindi Il problema è che Forse dovrei abbassare il fog Per questa cosa E non così basso sicuramente Facciamo un normal Dai che la finisco Dai che la finisco Ho perso la speed Ah ho perso la speed Adesso probabilmente non sarò più Restart Esatto esatto Se smetti di bruciare Grazie Vediamo Jump jump Cactus No Forza Smetti di bruciare Stupido Un mino di merda Ah Abbiamo finito la speed Smetti di bruciare Non è bello Quando bruci Non ce la faccio Very nice Very nice Indeed Si very nice Un cazzo Ho capito che probabilmente Quando cominci a bruciare E' meglio lasciarti bruciare Nella lava Ecco per esempio Come adesso Così poi Non dobbiamo più aspettare Che le fiamme Spariscano Troppo presto Troppo presto Queste sono solo da uno Devo ricordarmelo Queste sono da tre Quindi bisogna saltarle all'ultimo Queste sono da uno Ok Queste le colonne Non dovremmo Non dovremmo Prenderle No 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 Eh Ho perso la speed Dai E' un casino E' malvagia La cosa Di fare queste Queste Specie di saltini Avevo fatto anche Tutta la lava Push No No Ok Oh no Ce l'avevo fatta Farmi uno però Allora No Dai Rompipalle però Togliami la speed Così Che poi avevo detto Che il timing Non volevo farlo Ho saltato il timed E viene questa speed run Che è praticamente Timata No C'ero con Dai Non ci credo Ma dai All'ultimo Non si può morire Così L'ultimo scalino Del cavolo Ok Si Let's go Aia Cactus Cioè Sinceramente Non sono da evitare Perché non fanno Praticamente niente Si Fuck yeah No Dimmi che riesco a prenderlo Anche senza la speed Ah ok Vabbè Mi risponda qua Ok Sono Tranquillizzato Al momento Ok Fa chi è E quindi Possiamo tornare indietro Credo Perché non vorrei Dover tornare Poi Quindi si Fa vedere Torniamo indietro Lo mettiamo il fof così Perché non posso sopportarlo E Si Vedo che qui si è Slocato un'altra piattaforma Quindi Buono Questo cos'è Rage Rabbia Si Rage Rabbiamoci Are you crazy man Are you crazy Non è fattibile Lo shift all'ultimo Così Il problema è adesso come Ok 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 bro Questo Cosimo che sia una specie di checkpoint Perché Adesso non dovremmo morire Se cadiamo da queste trap Dovremo solo Dovremo ricominciare da capo Perché c'è l'acqua Giusto Anche se Non sono molto Complicate Come cose Ultime parole famose Bam Adesso muoio Oh 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 Andiamo di qua No Andiamo di qua Direi No è uguale Tanto per Dobbiamo salire ancora Fosi stato il creatore della mappa Ho lasciato l'ultima aperta Così che uno salta e non se ne accorge Quello sarebbe stato molto Rageoso come cosa Non trovate I pannelli E Ah ma io posso fare Posso fare benissimo così Però Sono quei salti bastardi Che bisogna saltare all'ultimo Quindi allora Forse mi aiuta a guardare in basso Perché devo saltare proprio all'ultimo Del blocco Quindi Hop O forse mi aiuta se torno sopra E come faccio per tornare sopra Credo che avevo solo un'occasione per finirlo nella maniera facile Che adesso devo finirlo nella maniera difficile Giusto? No Ero all'ultimo No No Ero all'ultimo Sì comunque potevo tornare sopra riscalando le Le traptor Quindi sì Non era molto complicata la cosa da capire in effetti Quindi sì Vediamo se riusciamo a finirlo in questa maniera No Forse è più facile effettivamente finirlo in questa È più veloce più che altro Eh infatti l'ho appena finito Wow Quelle piattaforme però non mi piacciono Quindi Andiamoci all'Under Parkour È così facile Basta salire Seriamente Non credevo Ok Vabbè Se siete contenti così Tiriamo questa leva Anche se non so cosa faccia E Botton Press Proviamo questo fottutissimo bottone Ok E devo dire che non sono neanche state molto raging Quindi torniamo indietro Siamo qui Adesso basta fare così No Dobbiamo buttarci E poi possiamo Come si fa a tornare Cioè come si fa a morire Per piacere voglio morire E Sì probabilmente devo fare così Yeee E torniamo Dovrebbe esserci anche un'altra piattaforma Comunque esattamente E adesso direi di fare l'ultimo Chi è? No Questo è già un boost L'ho già fatto Direi di fare l'ultimo Che è Timed out Io uso l'inunciano Timed out E cos'è? Cos'è? Non capisco cosa sia Oddio Ok Ho afferrato il concetto No 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 Stronto Se vedete la luce a fianco a voi Non è un buon segno Perché? Perché? Avrei schiacciato io Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Che fortuna Cos'è sta cosa? Oddio Questa è alla giochi platform Aspettate Reset Perché poi ho paura che si spacchino davanti Che casino è? Impossibile Ok Sto cominciando Perché? Perché mi è sparito tipo la terra sotto i piedi? No, 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 no No, 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 no Questo parkour è cattivissimo Il timing è decisamente la sezione più stronza Niente da dire Ok, ce la sto facendo Ok Non devo sbagliare Sto capendo come funziona No, perché ti sei tirata indietro un attimo più tardi Bastardo Ok, un piccolo consiglio per chi Se facendo il parkour si è in difficoltà come me Mullate il mouse Vedete che adesso io ho la visuale fermissima Perché non sto tenendo in mano il mouse Ma è più comodo Perché non vi si muoverà tipo mentre saltate così Questi che dovete andare solo dritti E... Tiri in là però È molto più comodo Ok Ok Nooo Perché ti sposti Ok 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 Oddio l'ultimo Nooo A mio parere questo dovevano inserirlo nei rage Perché Quello prima non mi ha fatto rage quittare sinceramente Questo invece sì Non so se avete sentito L'urlo che ho cacciato prima Quando sono morto all'ultima Perché è stato epico E mi si sta anche Incancrenando il dito A furia di Andare a fare Nooo Ancora l'ultimo No Ok No Questa cosa è impossibile Ok Io ve lo giuro Ho capito il meccanismo Ho capito come devo fare Ma è impossibile È troppo lunga Per essere umanamente concepibile Dovete metterle uno in meno Siamo seri dai Spiego almeno per voi che sia L'ultima Perché se no Potrei incazzarlo Se muoio di nuovo Sì Fuck yeah Fottetevi tutte Piattaforme di merda Fermatevi Fottetevi Sì Vorrei ringraziare il creatore della mappa Per gli anni di video editing Che mi regaleranno queste piattaforme Gli anni Perché ho registrato tutto Tutto Fottutamente tutto Liberazione Traimi sto cazzo di pulsante Porca troia Sì Sì Vaffanculo La liberazione di aver finito Questo cazzo di timing parkour Non ha prezzo Per tutto il resto C'è mastercard Pubblicità sublinale E Tornare indietro in confronto Vedere questo con le lucette Mi fa veramente Grazie Facevo prima in effetti E adesso posso proseguire Sembra di sì Sembra proprio di sì Se cado adesso Giuro che tiro un urlo Adesso What the fuck Is this shit bitch Ah Dimmi che ho finito Please Cosa sono queste cose Queste sono le piattaforme E se io entro qui dentro Come checkpoint Ma va Fancuori Io pensavo di aver finito Beh Queste sono abbastanza facili Come cose Anzi Direi che sono molto facili Se tutto così Posso fare il parkour Anche in un episodio Adesso io Credo che continuerò la registrazione Sempre Non chiuderò l'episodio Però Potrei dividerlo In due episodi In effetti O farò Un episodio lungo Di 40 minuti Dipende Come viene fuori La lunghezza Cos'è questo buco Cos'è Cos'è What is this shit bitch Ah non posso entrarci Ok Ah ok Devo salire di qua Ho capito E adesso di qua Poi di qua Perché in effetti Non le ho ancora viste Ah Quelle Quelle torri Ho capito cos'erano Erano il jump boost L'ho capito adesso Sono un genio Oh la lana Si Ho finito il parkour E quindi Per questo episodio Può anche essere tutto Vi ringrazio come al solito Della visione Mi tengo a far sapere Che sono tornato Anche ho già registrato Un video della Torni in forest Che sarebbe dovuto essere online Ancora ieri Ma Come avrete notato Non c'è Infatti se io vado In gestione video Possiamo notare Che è al 95% Elaborato Ma si è fermato Al 95% Quindi Probabilmente Dovrò picchiarlo E ricaricare tutto Da capo Ma per intanto Per questo video Direi che può anche essere tutto Io vi ringrazio Per la visione Vi rimando ai prossimi video Che caricherò Sulla Tversity 2 Sui mod spotlight E su tutto il resto Ma comunque Ciao ragazzi I'm back Mentre fuckers Sulla Tversity 2 Sulla Tversity 3